Il Monte Saraplanina fa parte del massiccio dei Carpazzi che si distende lungo il confine tra la Serbia e la Bulgaria e su questo monte si trova anche la cima più alta del nostro paese, Mijor, di 2.169 metri. Situata sulla penisola balcanica come parte del massiccio occidentale dei Balcani, il Monte Vecchio è una delle colonie più eterogenee in Europa, è un esempio dell'equilibrio tra la natura, una storia interessante e una ricca tradizione e grazie ai potenziali turistici è anche una priorità nella strategia di sviluppo di questo ramo economico. Saraplanina o Monte Vecchio è la dimora di 119 specie di piante fra cui alcune specie di frutta e foraggio, nonché di erbe medicinali e oltre 50 specie si trovano sulla lista di rare minacciati in Europa. In quel territorio vivono oltre 80 specie di mammiferi e 200 di uccelli, ma fra la gente è nota per la specie autoctone di pecore, capre e bovini che si sono adeguati alla vita nei pascoli sulle alte quote. E mentre le cime sono bianche durante l'intero anno, la maggior parte del monte si trova sotto la neve almeno sei mesi l'anno, che è la condizione preliminare per la costruzione di piste sciistiche e per lo sviluppo del turismo invernale. Il Monte Vecchio è una tesoreria di costumi tradizionali nazionali che l'associazione ISVOR di Knyashevats conserva dall'oblio. I membri sono in genere donne che si occupano di lavoro a maglia, ricamo e cucitura di costumi tradizionali nazionali. Loro hanno ravvivato la lavorazione delle calze di maglia bicolore, specifici per i vari ornamenti ricchi di colori e motivi. Nei nostri territori questi ornamenti raggiunsero l'apice nel 1700 e i documenti scritti rilevano che ci furono addirittura 734 ornamenti. Queste calze fanno parte del tesoro nazionale, esse si fanno esclusivamente di lana nera o rossa e a differenza dalle altre la lavorazione inizia dalla punta dei piedi. Le donne dell'associazione ISVOR dicono che per la lavorazione di un paio di queste calze è necessaria una settimana. Ci sono anche esemplari originali che, come parte della collezione di 600 paia, si conservano come un bene culturale importante nel museo Knyashevats. Quest'associazione conserva dall'obbligo anche molte ricette dei piatti tradizionali di Sara Planina. Il piatto più famoso è Belmouche Specialità di formaggio giovane e farina di mais. Si cuoce come il pane e ha un gusto e profumo unico, proprio come tutte le pietanze che si fanno con i prodotti dalla montagna, più nota come il tetto della Serbia.